Penso che uno dei compiti fondamentali di un questore sia quello di conoscere non solo il territorio astrattamente ma concretamente. Quando dico conoscere il territorio concretamente intendo dire capire e comprendere le esigenze della cittadinanza, dell'utenza che ha bisogno di sicurezza. E' rivolto alla cittadinanza il messaggio di insediamento del neo questore di Vibo Valencia. In polizia da 27 anni Andrea Grassi, 52 anni, di origini pugliesi e un investigatore di razza. Sue le inchieste che hanno portato il servizio centrale operativo ad arrestare personaggi di spicco come Pasquale Scotti, Giuseppe Ferraro e Giuseppe Crea e il 5 ottobre del 2016 Antonio Pelle di San Luca. Sue le indagini New Bridge e Columbus che hanno dimostrato le infiltrazioni dell'andrangheta in Canada, USA e Costa Rica. Ha esperienze nella polizia scientifica e nell'antiterrorismo, un curriculum di tutto rispetto che oggi mette al servizio di una provincia con la più alta densità mafiosa. Mi sento fiero e orgoglioso dell'incarico, consapevole delle difficoltà di operare in un territorio che in alcuni momenti è stato avvilito e offeso dalla violenza criminale di associazioni per delinquere. Questo sì. Nel 1992 è stato chiamato a lavorare a Palermo dopo le stragi di Falcone e Borsellino. Nell'ottobre del 2016 è andato ad affiancare il questore Alberto Intini a Firenze nella veste di vice questore vicario e da oggi a capo della questura di Vibo Valencia al servizio dei cittadini. Noi dobbiamo lavorare per la prevalenza dei calabresi onesti che insistono su questi territori. Questo io mi sento di poter fare, promettere e sperare di realizzare soprattutto.